E adesso veniamo a parlarvi di Sara Mira ossia della nuova tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ossia quella che sarà la collega di trono di Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro per i prossimi mesi. Non mi sembra che a questo giro abbiamo avuto una particolare fortuna, insomma è un po' di tempo, che questo trono classico non propone storie forti e avvincenti come una volta, ma certamente Daniele Dal Moro in questi giorni sui social è sommerso di polemiche e dopo queste rivelazioni temiamo che le cose non andranno meglio con le rivelazioni, che vi stiamo proprio per fare su Sara Mira. Ovviamente come vi abbiamo già detto nella sua scheda è un ex hostess. Amedeo Benza sostiene che Sara Mira era fidanzata fino a due ore prima di diventare troncita ma sentite cosa dice Amedeo Benza, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma soprattutto organizzatore di eventi e molto informato su quello che accade a Uomini e Donne dintorni. Effettivamente se Sara oltre ad avere perso il lavoro era fidanzata fino a due ore prima di accettare il ruolo di tronista non è per nulla un buon inizio.